Iniziano a fare sul serio le grandi della Serie A. Nella metà esatta della sessione di gennaio del calciomercato Inter e Napoli accelerano le rispettive trattative. I nerazzurri di Eric Toir hanno ricevuto il gradimento da parte di Hernanes, il fantasista in uscita dalla Lazio, con cui ha deciso di non rinnovare. Infatti sembrerebbe aver messo in cima alla lista delle preferenze il club di Eric Toir. Ricordiamo che per Hernanes dei segnali di gradimento erano stati lanciati anche dal Milan. Una sorta di derby fra le due milanesi, ma Hernanes, stando a fonti vicine al calciatore, avrebbe indicato l'Inter come squadra maggiormente gradita rispetto a quella rossonera. L'Inter però cerca anche un attaccante, si è fatto il nome di Marco Borriello in uscita dalla Roma. Su Borriello però è piombato anche il Genoa di Enrico Preziosi, che vorrebbe riportare sotto la lanterna Sponda Rosso-Blu l'ex attaccante, che fino alla scorsa stagione ha militato con la gloriosa maglia del Grifone. Sempre in uscita l'Inter deve piazzare Alvaro Pereira all'esterno uruguaiano. Intanto ha rifiutato già una destinazione, Olympique Marsiglia, Francia, Ligan, però potrebbe accettare di ripartire in Brasile e giocare con la maglia del San Paolo. Sempre per quanto riguarda le grandi del nostro calcio, il Napoli ha avuto un incontro estremamente positivo con l'agente di Giorginio, il calciatore che è letteralmente esploso nel Verona di Mandorlini. Le due parti si sono trovate sia sulla cifra che sulla lunghezza contrattuale che dovrebbe legare Giorginio al Napoli. Quattro anni e mezzo di contratto è cifra importante, adesso bisogna formulare l'offerta al Verona, ma è una trattativa davvero molto avanzata, potrebbe essere un rinforzo di lusso Giorginio per il Napoli di Benitez. L'Atalanta in uscita sposterà Marilungo in direzione Cesena, il Bologna e il Genoa parlano per Gilardino. Il Bologna intanto ha avuto un'idea, cioè quella di riportare in Italia l'ex centrocampista, l'ex fantasista della Fiorentina, Karja, che ha vissuto un'esperienza negli Emirati Arabi e che avrebbe tanta voglia di riassaporare il calcio italiano. Un altro attaccante che sta facendo tanto discutere in questa sessione di mercato è Fabio Quagliarella. L'agente Beppe Bozzo ha fissato il prezzo, o meglio il prezzo lo ha fissato la Juventus, la gente lo ha ribadito. Per Quagliarella ci vogliono fra i 7 e gli 8 milioni. E' un calciatore che piace tanto alla Lazio. Dunque le trattative sono entrate davvero nel vivo. Fra pochi giorni dovrebbero chiudersi diversi contatti che le società hanno allacciato in questi giorni.